Si riconvince a federare! Il Veloce Club Bassano 1892 è pronto per affrontare la nuova stagione sportiva e lo fa con un nuovo direttivo guidato da Michele Cavalera, da pochi mesi presidente di un sodalizio che conta una quarantina di ciclisti in erba. Lo scopo nostro è quello di far crescere i giovanissimi che poi, come ha dimostrato lo scorso anno, crescono per essere anche vincenti in categorie superiori. Si tratta di ragazzi tra i 7 e i 14 anni che competono in tre distinte categorie, a partire dai giovanissimi. Quest'anno abbiamo 25 ragazzi che gareggiano su tutta la provincia di Vicenza. Normalmente facciamo due allenamenti alla settimana, uno di quali viene svolto qui al velodromo mercante, in modo che possono già abituarsi per le categorie successive a conoscere un po' la pista. A conoscere già i 400 metri del mercante sono invece gli atleti della categoria esordienti. Sono ragazzi che vanno dai 12 ai 14 anni e ovviamente cominciamo già a fare dei lavori un po' specifici con loro in quanto a 14 anni già diciamo che viaggiano a media abbastanza anche alte. Dagli esordienti agli allievi dove si comincia davvero a fare sul serio. Cominciamo ad inquadrare i ragazzi per un futuro per chi avrà la possibilità di continuare con gare più lunghe, con vari tipi di gare come cronometro e gare più importanti. E chissà che magari qualcuno di loro non arrivi anche a conquistare la gara più importante tra quelle organizzate dal veloce club Bassano 1982, quella storica Bassano-Montegrappa che arriverà quest'anno alla sua 73esima edizione.